L'Europa, l'ha già detto anche il nostro primo ministro Letta, ha detto che ha affermato che di consolidamento si può anche morire. Io credo che l'Europa deve fare una riflessione e abbandonare una politica di rigore così stringente sui parametri di bilancio, ma pensare a investire qualche cosa anche sulla crescita.